Musica Secondo pareggio consecutivo per i Chieti, mentre per i Cattolica, secondo punto di stagione, raccolto tra l'altro sempre in esterna dopo quello di Agnone. La cronaca vede al settimo Traini portarsi al tiro con Benedettini che blocca a terra. Due minuti più tardi Bruschi cade a terra in area di rigore ma l'arbitro fa senso di proseguire. I reprei non chiarisce la situazione. Passeranno molti minuti prima di vedere questa conclusione di stallone che si spegne sul fondo. Al trentottesimo invece Talucci imbecca Marzola la cui girata di testa non inquadra il bersaglio. Prima dell'ingresso negli spogliatori Bruschi da calcio piazzato impegna a terra Benedettini. Ad inizio ripresa, esattamente al minuto 7, i Cattolica sorpresa passa. Battistini sale in cielo senza neppure bisogno di usare l'ascensore e batte Carmerlengo per lo 0-1 ospite. La risposta dei Chieti è affidata a Traini la cui conclusione si spegne alta. 60 secondi più tardi Bruschi impegna Battistini in corner direttamente a calcio piazzato. A quarto d'ora però i Chieti pareggia. Traini cade a terra in area di rigore e per il direttore di gara si tratta di penalty. Dagli 11 metri Marzola li trova l'1-1, ristabilendo dunque la parità in campo. Il Chieti si rende pericoloso solamente nel finale al 35esimo per l'esattezza quando Traini si gira bene ma non inquadra lo specchio della porta di un nulla. 1-1 il finale tra Chieti e Cattolica.